ci siamo wrestling una bella chop una chop inaspettata perché facciamo questa chop francesco ce lo vuoi dire tu una news se si può chiamare news perché in realtà è insomma uno spoiler un rumor che è uscito non mariano rumor il governo rumor no è insomma una come dire trapelata la notizia che il tuo five live verrà chiuso dopo wrestling si pare proprio che come aveva anticipato proprio la settimana scorsa in seguito alla domanda alessandro carella lo show dei cruiserweight della wwe sarà cancellato subito dopo wrestling mania quindi bisognerà anche capire cosa ci faranno con questo titolo ma soprattutto bisognerà capire cosa faranno con tutti quei wrestler che sono coinvolti in tuo five live la notizia dice che verranno distribuiti fra i vari show quindi non ci saranno dei licenziamenti in linea con la politica keynesiana della wwe ultimamente di assumere e non licenziare assumere tutti e non licenziare nessuno sì 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 pare che verrà abolito saranno contenti i sindacalisti anche se non c'è il sindacato dei wrestler quindi infatti e come come la commentiamo questa notizia luca ma secondo me questo è uno show che per come è stato impostato è morto in partenza è uno show ricordiamo figlio del grande successo che il cruiserweight classic nel 2016 o 15 forse 15 quindi si fu fatto appunto all'epoca in seguito al grande successo però non si è mai capito la direzione o meglio inizialmente il progetto pare fosse seguito da vince mcmahon in persona che appunto dimenticò totalmente quello che si era visto nel nel cruiserweight classic instaurando delle storyline orribili si può dire come gentleman jack gallagher che volava in cinema in meli poppins con il con l'ombrello oppure quando arrivò enzo amore per rilanciare la categoria che però che però che però no però fece parlare fece parlare perché lui è uno molto anni 80 è uno che fuori dal ring fa parlare di sé ma ti ricordo la storyline d'amore che con naya jacks che poi fortunatamente finì con il licenziamento di enzo amore il fatto è questo a me piaceva quella storyline l'errore di suo five live è il primo è questo che era la cosa più bella da vedere nel wrestling nel 2015 2016 perché si faceva nell'arena di nxt con un pubblico dedicato che voleva vedere quella roba lì invece la ww ha portato noi lo vedemmo anche uno show di tuo five live al termine era registrato al termine di smackdown quindi dopo già due ore e mezza di show con la gente che se n'è andata in arena e mezza vuote in più in più diciamoci la verità i grandi il grande nome che tutti aspettavano cioè cote i busci non firmò zack saber junior non firmò la maggior parte di quei nomi che erano più in voga non firmarono e lo stesso vincitore tjp da poco licenziato non era il migliore forse possiamo dirlo questo io sono sempre dell'idea che le responsabilità dei wrestler non sono sono limitate cioè molto dipende dal tipo di prodotto che gli fanno fare però io due cose dovrei dire la prima è che secondo me sono stati sono stati fatti come degli errori uno del quale non si parla spesso è proprio quello che non hanno fatto più il cruiserweight classic cioè se per tante altre cose come nxt nxt uk il mayang sul network il network ti bombarda il cruiserweight classic non l'hanno più rifatto e secondo me è stato un errore perché avrebbe portato poi ulteriore attenzione il prodotto l'altro errore è quello di è sempre il discorso perché facciamo spesso ad oggi lo stile cruiser lo vedi ovunque anche nella stessa addirittura a volte anche nella stessa vw ma sì 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 soprattutto lo vedi in tutte le i competitor quello stile lano allora io che mi vedo il best of the super junior per dirne una perché mi devo vedere il tuo five live che cosa mi dà in più la ww so cosa mi dai meno è che a quei prester viene concesso di fare meno cose sul ring i ritmi sono ritmi ww pensa cioè non sono ritmi da cruiser in molti match quindi che cosa mi stai offrendo storyline come abbiamo detto abbastanza discutibili personaggi che non sono carismatici perché lo sappiamo che i cruiser in generale a parte poche eccezioni non puntano sul carisma puntano su quello che fanno vedere nel ring e allora ma poi diciamo che era diventato anche una gabbia perché per rilanciare la mancanza di carisma come detto tu hanno chiamato prima neville quindi pac che tra l'altro non era male chiaramente è il numero uno sapeva fare bene il suo ruolo e rilanciò così come ostineris che ricordo che il miglior incontro di quella prestemmania in cui c'erano ostineris contro neville incontro finito nel pre show e da lì nacque il è da lì che praticamente sia neville che eris hanno detto arriverci e grazie fu il miglior incontro della serata però è diventato una gabbia per gente come cendrick alexander che è uno che ha delle capacità per lo stesso buddy murphy che comunque si è rilanciato di rilanciarsi poi vabbè diciamo che da brian kendrick che però comunque lui è un allenatore quindi resterà nell'orbita da bia 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 allora i cruiserweight in america erano cool nel 98 quando eric bischoff per riempire decise di dare esatto la prima mezz'ora barra anche ora quando poi nitro diventò di tre ore primo a dare spazio ai cruiser football layman in incidabili sì sì però in incidabili non c'era proprio la differenza cruiser perché comunque è stato per anni campione e sono stati anni just incredible è stato campione lì cw era magrissimo sabu e tutti quanti jerry lynn nova eccetera eccetera vabbè comunque nel in quegli anni lì primi anni nel fine anni novanta la wcw dedicava una buona parte dello show alla alla cruiserweight che in america nessuno conosceva in pochi conoscevano e chiaramente c'erano cruiserweight incredibili cioè tu hai nominato ultimo dragon ma già e quelli che poi sono andati in wb c'è erico guerrero di malenco per me più grande che è juventud guerrera juventud guerrera re misterio junior psychosis che però c'è pure stato in icw shannon moore shane elms quello che mi piaceva tantissimo era il tedesco come si chiamava non mi ricordo berlin no quello che poi è stato nominato col personaggio tremendo di bel vera era molto era molto bravo adesso come hai detto tu nel 2019 con tutto questo wrestling stonano un po ora alex wright ora siamo pronti francesco sei pronto con la tiritera ma adesso andranno all'all elite wrestling sicuramente però io voglio dire per una volta parliamo di numeri dunque chiudere uno show vuol dire che economicamente non conviene ora noi non sa visto che come dicevamo quelli vanno dietro smackdown e i costi economici sono quelli di far durare smackdown mezz'ora in più ora noi non abbiamo idea dei numeri che fa 205 live sul network perché la wb non parla mai delle visualizzazioni quello che possiamo dire sono vedere i numeri su youtube ora io ho davanti a me i video di 205 live calisto contro toni nees che è stato il main event credo è l'ultimo tuo five live alto toni nees è fortissimo tra l'altro 121.634 visualizzazioni 177 commenti brian kendrick contro drew gulag 72.121 visualizzazioni 248 commenti andiamo a smackdown il main event di smackdown kevin owens e coffee contro nero brian e rowan un milione e 529 mila cioè contro nero brian e rowan non esattamente i mega power però il pubblico però il pubblico è piaciuto molto sono 2500 commenti quasi tutti molto molto positivi la migliore wwe degli ultimi anni sì vabbè queste sono frasi che ormai si dicono andiamo a row ovviamente l'attacco di batista rick flair 8 milioni di visualizzazioni però è perché c'è batista l'arresto di becky lynch un milione e settecento mila cioè parliamo di siamo su altri numeri allora io penso che questa cosa non sfugge agli occhi di chi prende le decisioni assolutamente voglio dire una cosa sui numeri poi chiudiamo in realtà la wwe mensilmente parla del tipo i dieci programmi più visti sul network e to five live non c'è praticamente mai stato nonostante da qualche tempo a questa parte abbia ripreso triple edge la scrittura degli show c'è stato un netto miglioramento ma come abbiamo detto i numeri contano è un peccato è un peccato perché molti si sono impegnati a fondo per farlo diventare uno show legittimo a partire da drake maverick ho sentito la sua intervista tutti bravissimo anche lui io credo che lui diventerà un po' come rio russian lui dovrebbe essere il manager dei cosi lì autos of pain cioè l'hanno preso come un progetto e ci hanno dato veramente anima e corpo è un peccato secondo me le prospettive quali sono? premesso che non credo che li licenzieranno secondo me però qualcuno lo licenzieranno perché lo chiederà il rilascio sì però in generale non li licenzieranno secondo me il titolo resterà perché la WWE non ha motivo di cancellare un titolo e credo che lo difenderanno nei pre-show nei vari no background raw eccetera eccetera un po' in giro scalando la divisione cruiser che poi è anche una cosa che forse ha più senso forse sarebbe meglio soprattutto a raw che è tre ore esatto ed è un po' più di varietà ed è un po' più di varietà sì 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 bene la nostra shop finisce qui questo è tutto è stato bello conoscerci tuo Five Live sarà questo il titolo ciao ciao